Ciao a tutti, io sono Daniel Ponticello, sono CEO di Redder, quindi amministratore di Redder e essenzialmente invece di fare un'introduzione molto lunga vi dico che faccio cose e vedo gente. Queste sono la gente che vedo e queste sono essenzialmente le cose che faccio. Tagliando corto perché il topic è molto esteso e complicato, oggi parliamo di Selinux e in particolare del kernel level optional mandatory access control. Facciamo un passettino indietro. Esistono due tipi di access control in termini di security su Linux e sui sistemi POSIX in generale. DAC, quindi discretionary access control, che è il sistema che usiamo tutti quanti, che sono i permessi sui file che normalmente abbiamo nel file system. Quindi read, write, execute sono quelli che montiamo normalmente con gli utenti, i gruppi e tutto quello che è connesso. E poi esiste un'altra cosa che si chiama MAC, mandatory access control, che viene definito dal proprietario del sistema che non è root. bensì è proprio chi possiede il sistema ed è indipendente da quello che è il proprietario del file o del componente che sto andando a toccare come utente. E quindi diciamo che l'obiettivo di questo MAC è quello di isolare i componenti del sistema tra di loro. Quindi si estende quello che è il DAC di base per dare un altro livello di autorizzazione o comunque di security e avere la possibilità di isolare i processi all'interno della macchina. Quindi il flow tipico di autorizzazione all'interno del kernel è che il kernel prima controlla i permessi dal punto di vista del DAC, quindi controlla i permessi utenti, gruppi, accesso ai file, e se questo DAC passa, quindi se questo dà un allow, allora abbiamo il MAC che interviene. Il MAC è implementato attraverso una cosa che si chiama LSM, Linux Security Module, che praticamente utilizza degli hook, che sono delle chiamate ben posizionate all'interno del kernel, dove ogni chiamata di sistema, ogni syscall, fa girare questo hook esterno al modulo di security, all'LSM. Praticamente è stato piazzato un hook in ogni chiamata di sistema dallo userland, che va a toccare praticamente un inode o un task control block. Un inode è principalmente una struttura dati che descrive quello che può essere un file sul file system, e un task control block è un'altra struttura dati che descrive un processo. È implementato in tutti i kernel dal 2.6 in su, quindi dicembre 2003 circa, e supporta, diciamo, a livello come se fossero delle plugin, diversi moduli di sicurezza. Quindi abbiamo Aparmor, Selinux e altri che sono smacked o noio, ce ne sono veramente tanti, ma i due più famosi sono per l'appunto Aparmor e Selinux. Quindi implementando il MAC, quindi voglio abilitare il mandatory access control nel mio sistema attraverso l'LSM, faccio essenzialmente due cose. La prima è il security, quindi aumento la sicurezza del sistema in generale, e la seconda è l'auditing. Quindi come extra posso anche abusare gli hook dell'LSM per fare un rootkit, ma quello è un altro talk che faremo un altro giorno. Quindi un esempio del MAC for security, quindi abusare set UAD per fare privilege escalation. Cos'è il set UAD? Il set UAD è un flag che si mette in un binary, che praticamente dà la possibilità a un utente qualsiasi non privilegiato di eseguire un certo software, un certo programma, come se fosse un altro utente. Quindi io sono un utente che non è root, eseguo un programma che ha lo set UAD zero, che quindi è root, eseguo il programma con i privilegi di root. Quindi l'idea è che se il programma che io vado a utilizzare, che ha il set UAD zero, ha una vulnerabilità, posso sfruttare quella vulnerabilità per spawnare una shell, con i privilegi di root, ovviamente. Tutti i programmi con set UAD normalmente sono word executable, quindi significa che se io ho un utente, che di solito è www, che è quello che di solito viene exploitato, perché trovo una vulnerabilità dentro WordPress, guarda caso, e chiaramente mi ritrovo ad avere una shell con www. Eseguo un mio programma con un set UAD a root, divento root. Chiaramente darebbe la possibilità a un programma come www di eseguire programmi come mount o trace root, che tecnicamente non avrebbe nessun senso che www possa eseguire. Gli altri esempi sono se per esempio do, mi viene in mente, mi sveglio male la mattina, e penso che dare a VI, che è un editor di testo per chi non lo conosce, se do a VI il set UAD, chiaramente posso fare un bel punto esclamativo, due punti, bin bash, è una bella shell di root. Posso usare anche python, avk, quindi sono tutta una serie di cose che posso utilizzare per farmi una shell dopo sfruttando il set UAD. Vi do una reference di alcuni comandi che potete usare per trovare binari o comunque eseguibili nel vostro file system che hanno il set UAD impostato, questo perché così vi fate una lista e guardate se effettivamente ha senso dagli set UAD. Però dicendo che abusando quello che sono i flag prendo una shell, però se io ho un Mac implementato, quindi uso il Linux security module, prendo uno dei module, la parmor piuttosto che se Linux è altro, e importo e implemento un mandatory access control, non importa se io sono root, quindi anche se il mio exploit funziona e ho una shell con root, non importa perché in realtà il contesto su cui io eseguo quella shell che sto spawnando rimane esattamente il contesto del software che io ho utilizzato per ottenere quella shell inizialmente. Quindi continuo ad operare nel contesto www, che è indipendente da quello di root. Per esempio esiste questo blog interessante, questo cocker.com.au, quindi australiano, in cui praticamente c'è questo tizio che dice, ah io ho fatto una bella macchina Debian e vi do accesso root alla mia macchina in SSH da internet, potete farlo anche adesso. L'unica cosa è che non ho potuto mettere la password di root perché me lo vieta lui, ma se andate sul suo sito, vedete la password di root, lui dice io ho creato un sistema talmente sicuro con selinux, se anche entri in SSH con root non conviene nulla. Quindi effettivamente confinare root è possibile. Andiamo a vedere uno dei security module, perché abbiamo parlato in generale, ma andiamo a vedere nello specifico. Abbiamo AppArmor, quindi AppArmor è un LSM, un Linux security module, come lo è se Linux, quindi sfrutta quegli hook che abbiamo visto che sono all'interno del kernel. È stato creato da una società che si chiamava Immunix nel 1998 ed era parte di una distribuzione commerciale di Linux. Significa che in realtà nel 1998 non c'erano hook, quindi non erano Linux security module, all'epoca, ma erano delle patch da applicare al kernel e questa società ti vendeva questo Immunix che non altro che non era un Linux con dentro AppArmor. Novell nel 2005 se li sono comprati, lo hanno integrato in SUSE e l'hanno rilasciato come open source. Però ancora comunque nel 2007 tu dovevi compilarlo come patch. Nel 2007 Ubuntu l'ha scelto come modulo di default e dal 2010, chiaramente del kernel 2636, è diventato parte del kernel mainstream, chiaramente è diventato un Linux security module. AppArmor si focalizza su quello che è la sicurezza della singola applicazione, cioè va a costruire una specie di stampo, quindi come se fosse un'armatura rigida, infatti l'ispirazione è dalle armature medievali che limitano quello che è il movimento dell'app, app diciamo del binario, del mio binary, del mio eseguibile, e attraverso una policy di AppArmor praticamente vado a cercare, a controllare, comunque a definire tutta una serie di cose, tipo le capability POSIX, i file che posso andare a leggere, scrivere, toccare, accedere, e le capabilities di network, quali socket posso usare, quali porte posso aprire, eccetera. E' molto semplice costruire un profilo per AppArmor, qui abbiamo per esempio l'esempio di un profilo AppArmor per NTPD, questo è standard, non è una cosa che ho scritto io, quindi vado a definire semplicemente il binary che vado a targetizzare, quindi user spin NTPD, includo alcune astrazioni di base, poi dico, ma può aprire un servizio su una porta più bassa di X, posso fare chroot, posso toccare i file NTP conf in lettura, posso scrivere una serie di cose, quindi è molto facile andare a scrivere un profilo di AppArmor, lo accendo e funziona. Differenza tra AppArmor e Selinux? Beh, AppArmor è molto semplice, ma Selinux è molto molto più potente. Selinux è anche lui un modulo LSM come AppArmor, Selinux sta per Security Enhanced Linux, ed è stato creato non da una società commerciale, ma è stato creato dall'NSA, National Security Agency Americana. E ha utilizzato i modelli Trusix sviluppati negli anni 80, Trusix era Trusted Unix, o meglio Trusted POSIX, che praticamente mirava a implementare nei sistemi Unix, POSIX in generale, quindi Senix, quello che c'era all'epoca, mirava a implementare quello che era lo stesso livello di classificazione delle informazioni che c'era all'interno delle strutture militari, quindi sapete che c'è top secret, livello 5, livello 4, vai giù, dove le informazioni possono fluire dal livello più basso al livello più alto, ma non viceversa. Quindi hanno implementato questo modello e l'hanno rilasciato open source nel dicembre 2000 affinché fosse integrato in Linux. Linux Torval dall'epoca era contrario, credo che lo sia tuttora, era contrario integrare la roba dell'NSA nel kernel di Linux, pertanto quindi hanno inventato una serie di hook, che sono per l'appunto gli LSM, e una serie di società che hanno collaborato al progetto di Selinux l'hanno modificato per diventare un modulo e non una patch permanente all'interno del sistema. E quindi è per quello che si diceva optional mandatory access control, perché tu lo puoi accendere e lo puoi spegnere. Selinux lavora in tre modalità, permissive, enforcing o disable, ha tre tipi di access control che va a utilizzare, type enforcement, role based, access e multilevel security, e ha tre tipi di targeted policies, cioè tre tipi di policies, targeted, minimum o multilevel. Quindi come vedete non è facile come a Parmorg, definisco il profilo e lo tiro su e vado avanti. Le modalità permissive, enforcing e disable in realtà non sono così complicate, permissive lui funziona, ma in realtà non blocca niente, log e basta. Quindi tutte le volte che c'è un processo che viola quello che è la policy, io lo scrivo su un log. Enforcing invece lo scrivo su un log e non gli permetto di andare avanti nella sua esecuzione, disable se l'inux è spento. Il tipo di access control che io posso andare a implementare può essere di type enforcement, o dire role based o multilevel. Diciamo che nessuno utilizza il role based multilevel al di fuori della parte governativa, perché multilevel era per l'appunto il discorso che si diceva top secret, livello 1, livello 2, eccetera, e role based invece è definito a ruoli. Quindi io posso avere, non so, un root che è amministratore di sistema contro un root che in realtà guarda soltanto la parte di log, contro un root che è auditor, quindi posso avere una serie di ruoli. Quasi tutti utilizzano il type enforcement, che è il default della policy targeted. Le policy che abbiamo visto che sono tre, in realtà, in realtà è una perché è targeted, quindi io posso avere targeted, che è un modo di lavorare che prevede delle policy ben specifiche per tutto quello che sono i network demons, quindi i processi o comunque le applicazioni che aprono socket o comunque che comunicano con l'esterno, per esempio, un esempio di network demons è NTPD, ma può essere anche HTTPD, Namedy, quindi Bind, Apache, quello che volete. Copre i network demons e i programmi di boot, di startup, la policy invece minima non copre niente, sei tu che definisci le tue policy che vuoi caricare a mano, MLS invece è quella del multilivello, dove tu vai a definire una sensibilità per ogni processo, quindi dici, sì, questo tratta informazioni sensibili, non tratta informazioni sensibili, però, come abbiamo detto, quello che andremo a vedere noi sono la targeted policy, che è praticamente una policy che utilizza il type enforcement. Un po' di comandi utili da girare all'interno del vostro sistema, se voi fate get enforce, vi fa vedere in che modalità se Linux sta girando sul vostro sistema, quindi permissive enforcing or disable. Se io scrivo set enforce 0, 1, accendo e spengo l'enforcing all'interno del sistema, fino al prossimo reboot, quindi è utile nel caso in cui ho un problema e voglio vedere se disabilitando se Linux si risolve, faccio set enforce 0, guardo, set enforce 1, ritorno indietro, oppure il reboot si ripristina. Se faccio se status ho una tabellina con un riassuntino, e se mi interessa fare in modo che sia permanente, in etsy selinux config, basta che scrivo selinux enforcing, selinux type targeted, quindi definisco modalità e policy, e al riavvio chiaramente questo è persistente. La targeted policy agisce principalmente sui network demons, abbiamo visto su boot script tutti i programmi col set UID, quindi di default tutti i problemi del set UID sono già gestiti da selinux con la targeted policies. Se io do un'occhiata a quante targeted policies ho all'interno, diciamo che principalmente per ogni cosa che trovo sul package manager, normalmente ho già anche una policy scritta da chi ha scritto il software, chi ha pacchettizzato il software, la trovo già scippata con selinux a posto. Chiaramente chi costruisce software normalmente fa anche la policy di selinux, normalmente. Tutto il resto non è toccato, significa che se voi fate un vostro software che gira per conto vostro, questo gira attraverso con un type, il schema unconfine T, dove praticamente non viene applicata nessun tipo di restrizione dal punto di vista di selinux, ma ho comunque alcuni benefit che andremo a vedere. Le policy per operare sfruttano una cosa che si chiama security context. Il security context è un arricchimento di quello che sono i nodi, gli inodes o comunque gli elementi del file system per inserire tutta una serie di altre cose. Quindi non ho semplicemente data, ora, quando l'ho modificato, i permessi, eccetera, ma ho una serie di label che sono user role, level e type, dove se io faccio un bel ls-lz su un file specifico, su un binario, vedo la parte per l'appunto di quelli che sono user role, level e type. Quindi qui vediamo, per esempio, etsy, httpdconf, o system user, object role, http config type, s0, che è un flag di livello. Quindi, detto questo, posso farlo anche su ps-easy, dove posso andare a vedere, nel mio process list, quindi mi listo i processi, posso andare a vedere che arricchimento ho a livello di security context, cioè in che contesto sta operando il mio file o in che contesto sta operando il mio binario. Le target policy, in generale, quando io utilizzo una target policy, utilizza veramente poco gli attributi di user role, che sono i primi due. Quindi se io faccio 6 info, meno ufo, e do gli user che sono definiti, ne ho soli 8 all'interno, e come ruoli non ho praticamente neanche uno. I level che ho soltanto sui multi-level policies, che sono quelle che utilizza a livello governativo. Quindi utilizziamo soprattutto i type, che molta gente, a mio avviso erroneamente, chiama anche domains. Però i domains, o i domini, in realtà devono essere visti come se fossero il soggetto, quindi sono praticamente i soggetti delle azioni, quindi abbiamo processi e utenti, sono effettivamente i domains. Quindi io potrei avere il soggetto, quindi il dominio HTTPD, mi definisce un contesto HTTPD. E gli oggetto, vero e proprio che sono i type, sono i file, le porte, i socket. Quindi ho dominio HTTPD, che opera su un file type HTTPD. Ok, allow, va bene. Per esempio, un type particolare è quello unconfined T. I programmi per i quali non ho definito una policy, o non ho definito un type, girano come unconfined, e quindi non ho problemi, cioè non ho nessun tipo di blocco. Per esempio, se invece andiamo a vedere bind, e andiamo a fare un ls-lz su name.conf, oppure su una directory name.d, vedo che ho come tipologia, addirittura non ho semplicemente una tipologia name.d e basta, ma ho una suddivisione che sono name.d.conf.t, quindi è il file di configurazione, name.d.conf, name.d.cache, i file di cache, name.d è bind, quindi è il resolver, per chi non lo conosce, name.d.zone, sono i file delle zone, e name.d ancora cache, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che per ogni file che vado a dare, ho questo security context che mi definisce un type differente. Quindi, per esempio, andiamo a dare un'occhiata, se io vado a vedere le regole di allow che permettono a bind, quindi a name.d, che ha come type name.d.t, di accedere al suo file di configurazione, name.d.conf.t, o posso usare un comando lo user, che si chiama s-e-search, questo s-e-search mi dà la possibilità di vedere, fammi vedere la policy di allow del tipo name.d.t, e vediamo che ci sono diverse access vector rules, AV rules non è antivirus, ma è access vector, dopo andremo a vedere che cos'è l'access vector cache, ma è una compilazione che se Linux fa a livello binario, per cercare di essere più veloce nell'identificare quello che sono le policy. Chiaramente non va a leggersi un file di testo ogni volta, anche perché lavora a livello di kernel. Quindi se io vedo che, per esempio, name.d, ha possibilità di leggere il file name.d.conf.t con get attribute lock open, quindi sono tutti quanti, diciamo, gli attributi POSIX di quello che lui può fare su sta roba. Quindi se proviamo, per test, a cambiare gli attributi, o il type, scusami, non gli attributi, a cambiare il type del file di configurazione di name.d, uso chcon, meno t, quindi type, gli do admin on t, che non c'entra niente con name.d, un'altra cosa, lo applico a name.d.conf, faccio un bel service name.d start, e questo fallisce. Chiaramente ho del contesto che mi dice, guarda che failed, se fai system cattle status name.d service, ti dico perché, journal.d chiaramente entra in azione, e vedo che se Linux ha prevented from access, quindi non è magia nera, basta fare un bel journal.d, cioè journal cattle, le posso andare a vedere perché non ha funzionato. Chiaramente le policy dove le trovo? Le policy le trovo all'interno di etsis Linux e etsis Linux targeted, sotto formula di moduli, quindi io creo dei moduli che in realtà sono insieme di policies che poi carico all'interno di selinux. Per esempio, se faccio se module in meno L, posso vedere tutti i moduli che sono caricati con una certa versione. Per esempio, se faccio, voglio vedere quanti sono, sono circa 393, a seconda di quando fate la verifica, perché se avete più pacchetti installati ci sono più policy. E se voglio andare a vedere, per esempio abbiamo appena cambiato il tipo di file per conf.t, voglio provare a vedere se riesco a modificare la policy di selinux per far funzionare lo stesso name.d anche con il nuovo type, faccio una policy che dice allow name.d.t admin.t file.read la compilo, qua vediamo ls per vedere quanti moduli sono, 394, compilo con same module meno i il nome del mio modulo, riconto i moduli con same module, ne ho 394, riprovo a far startare il mio servizio name.d, faccio service name.d start, ecco che ho name.d che è partito, senza problemi, perché ho adattato la policy di selinux. come ho fatto a creare il file di policy? Chiaramente ho utilizzato uno strumento, perché non occorre neanche saperle scrivere, cioè uno strumento che si chiama audit to allow, semplicemente gli dite ad audit to allow guarda, guardami tutto quello che è fallito di quel processo lì e lui ti compila un file di policy per far funzionare tutte le cose che sono fallite di quel processo, quindi è un profiling se vogliamo, che dice tutte le cose che sono normali che quel processo faccia. Quindi se per esempio io volessi confinare un'applicazione di cui sono sicuro che è uscito uno zero day, cioè un exploit per una certa applicazione e ho l'exploit a disposizione ma non ho ancora una patch e quindi voglio fare quello che i vendor adesso chiamano virtual patching, questa terminologia un po' così, in realtà cosa faccio? Prendo il mio binary, metto il selinux in maniera permissive, faccio partire il mio selinux e comincio a scrivermi una policy. Lo chiudo, faccio partire l'exploit, riprofilo chiaramente quello che è il mio binario e dopodiché posso riprovare a riapplicare la policy una volta che l'ho fatto funzionare diciamo in modalità normale senza l'exploit lo faccio provare con l'exploit in corso ed all'imic generano una policy che non permetta quello che l'exploit sta cercando di andare a fare. Ecco che così riesco a crearmi diciamo un modulo che mi confina a quello che è la sicurezza di quella cosa, il virtual patching detto così. Quindi basicamente fanno sta roba qua. Cos'è AuditD? AuditD questo è direttamente dal MAN quindi MAN AuditD è un componente che permette di interagire con un framework che si chiama Linux Auditing Framework che è molto simile a quello della security module che sono una serie di hook all'interno del kernel che generano degli eventi vengono generate degli eventi a un system call e questo ti permette chiaramente di definire una serie di regole per scrivere su un log tutto quello che succede al kernel level. Quindi se io ho Linux abilitato quello che si diceva prima che molte cose lavorano in unconfined se io ho Linux abilitato ho diciamo porto una serie di arricchimento di contesto quindi porto i security context a livello di kernel anche per AuditD quindi siccome AuditD quando scrive sui log praticamente non sa tante cose non ha la possibilità di filtrare tante cose quando io gli importo quelli che sono i contesti rendo edotto il kernel su quello che è il security context di quello che sta girando e facendo così posso scrivere delle regole di auditing che mi dicono qual è il contesto in cui stava girando una certa cosa tra l'altro se anche voi fate una vostra applicazione voi potete creare il vostro security context quindi potete crearvi il vostro my app name app t che è il type della vostra app quindi andiamo a vedere questo per esempio andiamo a rivedere come si può creare la policy che abbiamo creato prima usando AuditDualAo quindi io trovo in var log audit audit log trovo oltre gli eventi di auditing quelli normali che dopo andremo a vedere che cosa sono i log di selinux come event type AVC che significa access vector cache che praticamente è per l'appunto questa evento cioè questa cache che viene precompilata di tutte quante le regole che selinux di tutti i moduli che selinux applica e da lì ti generano tutti gli eventi di deny o di allow quindi io posso addirittura decidere di loggare eventi che hanno avuto successo e quindi la possibilità di crearmi un audit trail anche di quello che fa un utente privilegiato esiste per esempio usando il tool audit to allow cosa faccio uso un tool dello user space di audit.d che si chiama usearch che però in questo contesto qui potrei aver usato grep tranquillamente perché gli dico cercami all'interno del file audit.log mi fai una ricerca per context name d check conf anzi per comando name d check conf però potrei potuto fare un grep e sarebbe stato uguale perché ho un bel dash dash row che vuol dire dammi esattamente la linea row da lì faccio un pipe lo butto dentro audit to allow e gli dico di crearmi un modulo che si chiama name d rto punto fatto non ho altro da fare una volta che ho il mio modulo io ho fatto un cat soltanto per far vedere che c'è la stessa roba dentro faccio se module meno i il nome del modulo ed è caricato quindi non è così difficile creare i moduli per se linux andiamo a vedere audit d quindi abbiamo visto la parte diciamo di security andiamo a vedere la parte di auditing audit d permette di registrare sul disco quindi su un file che si chiama audit d punto log tutte le system call utilizzando questi hook che arrivano dal kernel in etsy audit d rules ci sono le regole di quello che io effettivamente voglio loggare e quello che io voglio escludere di tutte le system call che passano nel sistema a che cosa mi serve audit d quindi posso utilizzarlo o per compliance quindi se lavori in un'industria regolata come lo siamo noi che per esempio lavoriamo nel tlc abbiamo i dati di traffico per fini di giustizia per fini di billing eccetera eccetera e quelli hanno tutta una serie di regole devi avere un audit trail con audit d sei già compliance addirittura oltre a quello che ti chiede l'organismo di auditing che cosa fa audit d ti dà anche se no un security trail che ti puoi andare ad aggiustare tu quindi senza dover usare prodotti commerciali accendo audit d e ho un log in cui ho data ora tipo il risultato di un evento quindi è successo questo ed è stato permesso ed è stato negato posso andare a vedere l'associazione dello UID con l'evento ma non soltanto lo UID anche lo real UID perché se ho un programma come per esempio sudo che è uno dei programmi che ha il set UID perché ovviamente sudo cosa fa ti permette di utilizzare i privilegi di root anche se non sei root e ti dice guarda che questo comando è stato eseguito con questo UID con UID 0 perché era i root ma il vero real UID cioè che effettivamente l'utente che l'ha eseguito era un'altra persona modifica i file di configurazione UID stesso quindi lui si loga loga se qualcuno modifica UID tutte le autenticazioni SSH Kerberos linee di comando tutto quello che è accesso al sistema di autenticazione alla macchina tutto quello che è data exfiltration quindi accessi al raw anche ai socket eccetera eccetera modifica i file e i nodi quindi per esempio posso inserire dei watch su dei file per esempio non so un'applicazione potrebbe essere ho il mio password manager all'interno del mio file system mi crea una regola di auditing che guarda ogni volta che qualcuno tocca in sola lettura lo copia lo gira il file dove ho il database del mio password access manager posso creare una regola di audit e ce l'ho scritto sul log tranquillamente oppure qualsiasi syscall arbitraria quindi mi viene in mente che ho una syscall anche per motivi di debug la voglio monitorare lo scrivo sull'audit rules e questo me lo scriverò sui log security questo arriva direttamente dal sito di rel quindi questo è un diagramma che fa vedere come funziona effettivamente audit d quindi ho l'applicazione che fa la mia chiamata di sistema vado chiaramente a livello di kernel ho tre filtri che sono user task e exit che sono i filtri che mi diciamo monitorano a che punto sono della system call quindi ho user che fa la system call task qual è la task che volevo fare exit ho il risultato allow deny di cosa è successo su quella system call poi tutto quanto questi filtri qui puntano su un filtro che si chiama exclude che mi dà la possibilità di eliminare quello che non voglio sentire e da lì viene girato all'audit demon che si chiama audit dispatcher da lì una volta che tutti quanti questi log vengono scritti su auditd.log posso utilizzare un tool che si chiama aussearch e al posso usare grep che mi dà la possibilità di cercare per esempio per un topic io qui avevo fatto stamattina su una macchina mia aussearch meno t topic avc volevo vedere se qualcosa era stato bloccato da selinux e ho trovato su un server di ricerca e sviluppo che come vedete c'è un context phantom js211 ha tentato di lavorando come httpd vedete che lavora come typing grassetto httpd t ha tentato di toccare un file che è fonts t e siccome httpd t non può stoccare fonts t teoricamente il risultato sarebbe stato denied ma vedete che c'è flag permissive 1 questo è passato lo stesso ma è stato logato quindi se uso adesso audit to allow potrei aggiornare la mia policy di httpd per utilizzare i file fonts t a un report invece vi crea una report dove vi fa semplicemente un riassunto quante cose sono state bloccate oggi quanti tentativi di accesso sono andate male quindi se voi vi fate un bello script in cron che ogni giorno vi gira a un report e ve lo manda via email avete un bel riassunto di quello che è successo in quella giornata questo per esempio sono le mie regole di audit che uso normalmente su ansible quando faccio il deploy di una macchina virtuale e chiaramente qua vi fa vedere un po' la struttura com'è ma la cosa interessante da vedere è per esempio questa parte qui dove ho di configuration ho quel dash meno v questo è quel meno v sta proprio per meno watch guarda un certo node ogni volta che quel node viene toccato mi crei una linea di log con meno k è la label che gli voglio dare e quindi quando io creo un topic potrei crearmi il topic che dice controllami il file del password manager topic password manager e li posso andare a vedere questo volendo per esempio una delle cose che faccio io perché ne sono obbligato è creare il topic abuso di potere power abuse che è tutte le volte che l'utente root va a prendere cose che non sono di root e quindi in quel caso posso creare un watch che dice mi controlli tutto quello che c'è in slash home che non appartiene all'utente root ma che tocca root che gli è permesso di farlo ma almeno sul mio audit log sul mio audit trail so che root ha toccato quella roba lì che è il cosiddetto log degli amministratori di sistema a breve non ho ancora fatto tempo vi metterò su github la copia del mio file di audit t sono circa 150 righe che definiscono varie aree del sistema che secondo me ha senso monitorare beh non soltanto secondo me ma anche secondo questi profili e questi compliant PCI DSS NISPOM STIG sono tutta una serie di cose che ti dicono non ti dicono non ti scrivono la rule ti dicono tu per fare le cose fatte bene dovresti controllare questa cosa io ho preso questo dovresti fare questa cosa e l'ho tradotto in una regola di audit d quindi giusto per fare un attimo di riassunto spesso tra le istruzioni quando andiamo a installare un nuovo programma vai nell'istruzione del programma troviamo nelle installazioni dire disable selinux disabilitate selinux classico cioè tu entri dentro e c'è disable selinux allora il discorso è non disabilitate selinux perché altrimenti vi perdete il security context avete delle alternative la prima è quella di dire ok mio selinux sta in modalità enforcing targeted ma metto in permissive solo un certo type quindi uso cmanage che è un tool nello userland per fare managing di selinux permissive meno a dash a name dt e modalità permissive faccio partire il mio name dt mi genera tutte quante le mie eccezioni in audit nel mio audit log faccio audit allow sistemo il mio profilo lo ricompilo tolgo e lo rimetto in modalità enforcing oppure se proprio proprio non volete avere selinux in modalità targeted quindi modalità enforcing potete metterlo in permissive mode in maniera globale però almeno avete il security context perché il security context che sono queste label che io ho all'interno del file system se selinux è disabilitato al boot non vengono applicate queste label e quindi non le ho nell'auditing e quindi perdo contesto notare che però se a un certo punto qualcuno è in grado di montare il file system mettendo un flag che gli dice non montare il security context selinux non funziona più quindi ci sono tante cose che vanno valutate poi a livello di security quindi non è il silver bullet tiro su selinux se sono a posto quindi per compliance una volta che avete messo in piedi outdd avrete il requisito di dire e questa è una cosa che scrivono anche sulle regole italiane quando tu fai compliance tutti gli eventi di auditing che generi su un sistema devono volare via immediatamente dal sistema che tu stai controllando perché altrimenti non sai compliant allora qui c'è un dibattito aperto perché molti usano rsyslog tutta una serie di cose ma se io utilizzassi rsyslog per andarsi a guardare o file bit per esempio che adesso fa molto di moda o audit bit quello non fa altro che prendere una cache di una trentina di righe configurabile e ogni volta che arrivi arriva a 30 righe lo shippa lo manda al syslog remoto questo secondo varie persone non è compliant quindi per farlo dovrebbe essere viene generato questo va via subito dal sistema per fortuna audit t senza reinventare niente ha già built in una funzione che dà la possibilità di inviare direttamente i dati che vengono generati cioè gli eventi che vengono generati a un server remoto da abilitare facilissimo perché un server audd qualsiasi anche quello della macchina normale in etsy audd audit audit conf metto tcp listen port 60 questo è un protocollo registrato di quelli bassi dove in automatico lui si mette in ascolto e accetta eventi di audd dagli altri host che puntano a lui sul client dico remote server doli p porta 60 basta fatto e appena appena un evento viene scritto sul file system viene anche mandato al demon remoto tipo il piccolo consiglio che vi do log format enriched questa è un'opzione sul client che dice siccome i log in raw contengono semplicemente gli uid e i pid dei processi locali di quella macchina se io sto centralizzando tutto quanto via perdo il contesto di qual era il processo che girava con quel pid se io faccio log format enriched oltre a mandarmi il file di testo con lo uid e il process id mi scrive anche qual era l'utente e qual era il nome quindi mi arricchisce il log del contesto che mi serve perché altrimenti centralizzo una cosa che poi non posso leggere allora ho finito per time out sono 32 minuti cosa che vi consiglio di leggervi c'è questo articolo di blog di bentestlab.blog lista degli eseguibili con set uid se non volete usare selinux potete cercarvi la lista degli eseguibili con set uid e togliere il flag doc documento di fedora project quindi mondo rel su security enhanced linux sulla parte di confined and non confined users che non abbiamo parlato qui che quindi come fare è confinare proprio l'utente perché abbiamo visto i type noi abbiamo confinato applicazioni e file e praticamente la parte di la guida di redat sui sistemi di auditing non abbiamo parlato di seccomp che è un modulo di sicurezza di docker molte volte quando mi chiedono ma che cos'è docker la risposta peggiore che puoi dare è fai delle macchine virtuali dentro una macchina virtuale no docker condivide è un sistema di namespacing quindi condividi comunque lo stesso spazio del kernel e dunque se uso audit t siccome il kernel è lo stesso riesco a utilizzare a fare auditing anche di quello che succede anche dentro i container molto importante l'unica cosa che perdo però che io non ho ancora e speriamo che nei prossimi mesi venga inserito nel mainstream del kernel non ho un contesto che mi dica da quale container è arrivato quell'evento quindi ho tutto il contesto del syscall ma non so qual è il container che ha generato l'evento quindi penso che però venga risolto venga creato un type un container type di qualche tipo a breve se volete parlare di seccomp seccomp è una cosa che potete vedere su questo blog di Jesse Frazell perché non la conosce cercatela su Google è un'autorità in termini di docker e ci sono una serie di profili che voi potete applicare nello stesso stile di Linux Security Module per confinare bene docker perché altrimenti molti dicono ah non c'è problema ho tutto quanto dockerizzato poi ci sono i cosiddetti container escapades cioè la gente che esce dai confinamenti di container perché comunque gli hai dato un container che può toccare file sul file system perché gli hai dovuto mappare qualcosa e non hai confinato i privilegi di root all'interno di quel container quindi ci sono modi per confinare anche nei container grazie ho finito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti